A volte penso questo amore tra di noi Allora, ciao amici, sono Francesco Monforte, vi do il benvenuto qui all'aeroporto di Colonia e sono qui con la grande, ma dico grande perché è una grande Anna Bruscolotti e secondo me è una delle più grandi fanze che ha Carmelo Zappulla Allora Anna, quanto pazzie stai facendo? Da dove stai venendo adesso per venire a prendere Carmelo? Comunque io sono di Krefeld, però in questi ultimi giorni sono stata a Mannheim per fare gli ultimi aggiornamenti della preparazione di questi due eventi che sto dando una mano a Filippo Cavallare, il promotore di Carmelo Zappulla Vabbè, ma secondo me più che una mano stai dando anima e cuore Come si dice a Napoli, anima e cuore perché già mi sta tremando tutto dalla gioia di vedere Carmelo Zappulla, il mio grande amico, soprattutto grande attista Infatti ti vedo che sei tutta agitata, non vede l'ora che esce Comunque penso che mancherà poco, che sarà qui Appena uscirà giustamente ci facciamo di nuovo in onda e vi do ancora un saluto su Italia TV Colonia A tra poco, ciao amici Ciao Ragazzi amoreno, amoreno Gammelozzo ciao ragazzi non vi potete immaginare come Anna non c'è più non c'è più non c'è più nei panni la vediamo pure allora Gammelo per intanto benvenuto qui a Colonia io sono Francesco Monforte gli ultimi settimane con la Anna mi ha visto mi fa piacere abbiamo fatto tanto quello che si poteva fare l'abbiamo fatto però avere una grande fan come Anna ne può essere orgoglioso ma al di là di una grande fan io l'ho detto pure ho avuto modo di dirlo anche su Facebook è una grande collaboratrice grandissima collaboratrice come gestisce le pagine su Facebook c'è davvero un grandissimo lavoro questa sera è tutto perito suo perché ci ha organizzato lei questo concerto a precedere poi vengo io pure a cantare però è lei che ha organizzato questo ci fa piacere va bene ci vuoi dire qualche cosa qualche sorpresina che farai perché venerdì sarai a Mannheim alla Rhein-Goldtale e poi sabato ci sarò pure io a Bupertal a Bupertal ti vero a trovare pure io niente ci sono abbiamo preparato una bella scaletta per tutti i nostri amici che verranno ad ascoltarci spero che sia di loro gradimento per me lo è anche perché fino a ieri sera d'arte abbiamo provato lasciamo così al punto interrogativo a quello che succede dopo quanto tempo stai ritornando un'altra volta in Germania o a Colonia lo sa forse meglio meglio di me lo sa Anna Bruscolò l'ultima volta che è venuto a Colonia è stata nel 2002 allora amici dopo dieci anni avere a Cammelo Zappulla un'altra volta qua ricordare solamente i titoli Pover Amore Pronto Lucia quell'altra due bicchiarelle se non mi sa ma qualche saluto in siciliano quell'amice siciliano allora io canzoni ne ho fatto circa 500 come minimo i bicchiarelli si stanno no 500 più o meno qualche saluto in siciliano come no perché non mai dare un saluto è giusto anzi in siciliano dico un appello a tutti i siciliani io vi aspetto domani a Mannheim e dopo domani a Vuppertal ma ci raccomando venite tutti quanti perché ci sono anche le canzoni siciliane che abbiamo preparato per voi un bacio a tutti allora amici di nuovo vi do un saluto qui su Italia TV Colonia avete visto Carmelo Zappulla è arrivato è qua vi aspetta anche io la Generale Venti Pasquale Manolio sulla TV Italia su portale di internet perciò amici come ho detto sempre venite 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 non mancate perché l'avete visto Carmelo Zappulla è qua ciao ci vediamo